Poncirolli, Juve? Pensavo fosse uno scherzo. Zagnolo resta fino a giugno? Queste le sue parole. Cosa ne pensi del meno 15 della Juventus? Pensavo fosse uno scherzo, mi sembrava tutto troppo rapido. La FGC solitamente ci mette tanto a prendere le decisioni, qui è stata veloce. Tra l'altro sorprende che si era arrivati ad una richiesta di meno 9 per poi vedere la maxi stangata di meno 15. Sto cominciando a pensare che i problemi della Juventus siano solo all'inizio, e chi ha il coltello dalla parte del manico ha voglia di pulire il calcio, ma andando a punire solo la squadra bianconera. Ma questa cosa mi lascia perplesso perché la Juve sembra il mostro della situazione. Plus Valenze? Non è definibile oggettivamente il valore di un calciatore, scarso o forte che sia. Sta di fatto che sono preoccupato, non dico che la Juventus non abbia colpe, ma la sensazione è che si debba attaccare per forza solo la Juventus, non vorrei che per questo possano arrivare sanzioni più gravi. Se poi la Juventus dovesse addirittura vedere il suo futuro in Serie B, questo sarebbe un colpo anche per il nostro campionato perché poi dovrebbe passare molto tempo per ritrovare il giusto equilibrio, perderebbe di credibilità. Il futuro di Zagnolo? Non credo che partirà in questa sessione di mercato, lui vuole un top club e il Burnout non lo convince. Probabilmente rimarrà a Roma fino a giugno e poi troverà un'altra sistemazione. Su di lui poi continua a non cambiare idea, non mi ha mai convinto e non mi convincerà anche per il futuro, troppi alti e bassi, non riesce a trovare continuità di rendimento. Mourinho è stato colui che è riuscito a tirare fuori qualcosa dal giocatore, ma nonostante tutto credo che anche lo Special One abbia capito che il 22 sia un giocatore che va a folate. Se manca la testa allora diventa tutto un problema. Comunque non credo che alla fine andrà al Burnout. Comunque non credo che sia un'altra domanda.